Ma quanto è bella questa mappa che ha fatto l'assistente segreto, non è vero Fede? No! Ma perché ogni volta non ci casco? Perché so già! Quello che andremo a fare è che sei stato tu a prepararla Stef, non dare la colpa all'assistente questa volta Uffa Fede, ma i consolini sono felicissimi, cioè il primo video che abbiamo fatto di Bedwars e Luckybrook lo hanno letteralmente adorato Guarda, forse è la cosa che più adorano dopo il nascondino su Minecraft Può essere, può essere E quindi Stef ha preparato una nuova mappa Allora, la costruzione non l'ho fatta io, semplicemente ho modificato tutte le isole Per renderle molto interessanti Funziona così Allora, nella tua isola hai del grano, un alberello e una pozzetta d'acqua Vedo, vedo Ok, dentro la tua casetta hai un villager che ti vende dei Luckybrook molto carini e celesti In cambio appunto di pesci, di legna, di grano e di minerali rari Quindi i pesci, la legna e il grano li trovi in questa isola stessa Mentre i minerali abbiamo l'oro nell'isola di fronte alla tua, quella vicinissima Perfetto Smeraldi nelle quattro isole con gli alberi che hanno due cose ottime Quegli alberi giganti, no? Esatto Uno Un solo smeraldo vale cinque Luckybrook quindi è buonissimo Punto due C'è un sacco di legna che puoi utilizzare per comprare altri Luckybrook Quindi gli alberi sono un'ottima meta Infine Nell'isola centrale super lì in fondo Che sta proprio nel mezzo tra me e te Ci sono un sacco di Diamond Ore Che valgono tre Luckybrook Ah, li vedo già da qui Quindi tu potrai avere tante strategie su come muoverti E la cosa interessante è che non abbiamo nulla per poter vincere questo scontro Perché dovremo dipendere totalmente dei Luckybrook Ovviamente perché sono delle Luckybed Wars Quindi giustamente Iniziamo Stef Il nostro equipaggiamento è questo Non abbiamo davvero nulla Sì, ho anche già mangiato Pensate avevo fame Allora ti do un consiglio I pesci sono semplicemente l'unica risorsa infinita dell'isola Ma le risorse veloci per farti dei Luckyblock Sono il grano e la legna Io fatti so già tagliando il grano Che ovviamente mi ripianto pure Sai come se ricresce Bah, secondo me ci mette troppo tempo E anche l'alberello è solo uno Quindi i pesci a che servono Se finisci tutto e ti è andata sfighissima Ti metterà a pescare piano piano Oh no, certa terra mi si è tolta Oh, povera Torna a essere terra No, Fede Quanto ci dispiace Allora, vediamo Io punto a prendere i Luckyblock normali Ok, anche io Quelli fortunati non sono mai stato fortunati Quindi io non li uso Quantità piuttosto che qualità Quindi preferisco prenderne tanti Allora buongiorno Kim Mi dia tutti i Luckyblock che ha Ok, faccio 12 E poi me ne escono altri 5 Quindi ho 17 Luckyblock Che succede? Un Luckyblock mi ha fatto esplodere in aria un mucchio di uova Che come sono cadute hanno fatto un sacco di mini polletti E poi mi ha dato anche 8 diamanti Non si sa perché Però me ne ha dati Che è una cesta Questa legna però mi serve a me Questa legna Eh vabbè raga Non mi serve a nulla Adesso Vabbè vabbè Due Mi serve Ho trovato un piccone di pietra Ok un po' di pietra Otto Pensavo un po' meglio Anche questo Il nulla Ok Ottimo Ottimo Sven Sven Devi fare da bravo Sven Sven È fortissimo Sven È fortissimo Ma conservo pure Che ha combinato Stef? E chi ce l'hai? Chi è Sven? È un ragno fortissimo Bene E c'è morto No sono spacciato Due morti eh Due morti Come vedete c'è la keep inventory Che per fortuna di Stef Giustamente Giustamente Sven Cadi Gli sta andando male a Stef Cadi Lucky villager Uh che vuoi Raga non so che fare C'è con una spalla di legno Probabilmente la mazzo Lo devo buttare giù Non mi sei molto utile Quindi andiamo avanti Cadi Sven Uh Stef Sai che ho trovato? Hashtag Sven Delle ender pearl Ender pearl Not bad Not bad Posso direttamente Teletrasportarmi E che volo vuoi fare Cara non ci riusciresti mai Quello di fronte secondo me ce la faccio Ah quello di fronte si Quello di fronte ce la faccio Allora Posso iniziare a prendermi dei materiali Quello interessante Ma con solini dovete sapere un altro dettaglio Quello era il mio equipaggiamento Quindi io non ho il piccone Di conseguenza devo cercare anche il piccone Raga ma che ci fate? Una mucca sopra una mucca Via tu Via 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 Stanno andando malissimo Stanno andando malissimo Ok va molto meglio Va molto meglio Ma se trovo un blocco di gold Lo posso rompere per poi comprarmi qualcosa? Sì perché lo puoi trasformare in singoli lingotti o quello che ti serve Penso di averlo appena spaccato quindi niente Ok Come sempre Avevo solo un piccone così ho dovuto Ma Yalini io non vi voglio uccidere Ma non c'è spazio Mi è capitata una costruzione gigante qua Allora Non è successo nulla Queste pozioni le potrei usare contro di te comunque Con le armature Fortuna associata Il discorso è che non sto trovando le cose più fondamentali Per quanto riguarda la strategia per vincere Uh ma sono arrivata direttamente all'isola centrale Ma hai un piccone? È di pietre Allora non puoi prenderli Non lo so Perché io puntavo a quella Ma ho sbagliato il lancio Steph È stato solo quello Però ti vedo adesso No no Posso arrivare Guarda che è una tecnica Potrebbe essere arrivare direttamente A casa tua Nel tuo letto Distruggertelo E ho vinto E finisce in 5 minuti sta partita Steph Se vuoi puoi Ma io sono pronto con una spada Aspetta Sta venendo davvero? No devo mirare l'isola giusto Ok ce l'ho fatta Ah ok Penso se stessi davvero venendo da me Mi stavo spaventando Allora Consolini La situazione è grave Perché Non ho trovato un piccone Per prendere il gold Che sta nell'isola Qui di fronte E 16 più 8 Ho soltanto 24 blocchi Per andare a quella di All'albero Dato che lì potrei prendere La legna Per fare Ma non credo mi bastino i blocchi Quindi Ma come facciamo a farci del ferro Steph Del ferro? Mi serve un piccone in ferro Non in pietra Lo devi trovare nel lucky block Come lo devo trovare? Già Cioè non posso prendere neanche l'oro Vero mi sa? Freh io ho risolto così Se hai avuto fortuna di trovare un botto di blocchi Puoi andare all'albero Dove c'è un botto di legna E ogni blocco di legna Ti dà un lucky block E quindi risolvi in questo modo Altrimenti Ti tocca pescare Se riesco a farmi Aspetta Un volo Ah ma tu hai l'enderpelle Allora hai risolto Freh Voglio fare un bel volo Aspetta Ok un pesce l'ho già trovato Perfetto 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 Allora Mi devi Proprio portare fortuna Pesciolino Mi devi portare Inizio a prendere un po' di legna Fortuna Freh sta avendo Molta più fortuna Che puoi della legna così Lo sai che l'ho trovata anche nei lucky block? Attenzione 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 Che hai trovato? Zitto 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 È esploso È morto? No Sei morto? No Perché per fortuna La TNT stava sotto L'ossidiana Non mi ha ucciso Quanti blocchi ho Però la 14 Non voglio esagerare Perché secondo me Se perdo troppo tempo qui dentro Mi rallento in automatico Stato Stef non è fermo a pescare Oh Stef Chi li ha organizzati Lucky block Chi li ha organizzati Non si lamenta Io adesso queste Vabbè che poi l'enderpelle Non sono infinite Quindi non è che posso andare in giro Quanto mi pare Però per ora Mi sta andando bene Beh potresti anche lanciarti Perché tanto È l'hacky più inventori Torno a casa Ok perfetto Poi fanno male da usare Pesce Poi arrivare per favore Ok Dai pesce Ok Eccolo Meno male Ok Stef ho 20 nuovi lucky block Da aprire Brava Grazie Sapete che faccio Mi sfondo Metà casa No non sfondarti Metà casa Sì Questi non li posso utilizzare Perché se vedete Non sono Di oack E di conseguenza Non li posso utilizzare Per comprare Lucky block Ma posso pur sempre Utilizzarli per arrivare Alla cavolo di isola Dove c'è la legna Perché pescare così Non si può Non si può Troppo lento Troppo lento Poi con la sfiga che c'ho Secondo me tra dieci anni Stiamo ancora qui Mi hanno dato una pala Una pala in ferro Ma non mi serve molto Cioè Che sfiga C'è una costruzione enorme Adesso nel bel Oh ma no Qui dietro c'era Piccone diamante No Mi hanno dato Non l'avevo notato No Sì È finita per me È finita per me E allora mi risposto Non finisco neanche i lacchi L'unica cosa che posso fare Con solini È andare velocizzissimo Prendere un po' di legna Trasformarla E sperare nella fortuna Ok Ok Per di più Credo che finirà totalmente I miei blocchi Ok Sì Penso proprio di sì Quindi adesso devo andare di qui Devo mettere questi Veloce Steph Allora Siamo in svantaggio incredibile Contro fare Non è possibile Non è possibile Non posso farla vincere Non posso Perché poi se vince Le iniziano a piacere le badgers E me ne chiede di fare una La settimana No 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 Steph Quello non penso che sia possibile Però aspetta Steph Io come ho piccolato Lo smeraldo Mi ha dato lo smeraldo Ah E tu invece hai organizzato Ah Ho fatto una scemenza gigante Vedi perché faccio preparare L'assistente segreto Come faccio adesso No non c'è modo Come non c'è modo Non c'è modo No Steph Trovami un modo Perché io ho chiaramente vinto Qui non mi puoi far perdere Perché hai fatto un errore Scusami Fere No smettila Steph E non so cosa dirti No Steph Fere ho sbagliato Mi chiamano pure al telefono Ok l'ho bloccata Meno male Cioè io adesso prendo i diamanti E mi dà diamanti Non mi dà i blocchi Ma io sai che faccio Te li prendo tutti dall'isola Non te ne lascio manco uno Ma tanto non servono Nienche a me Non mi interessa Non mi interessa Non vedrai manco un diamante Tutta la tua vita Consolini Adesso sapete perché L'assistente segreto È fondamentale nel canale Quindi ho vinto Cioè totalmente Io adesso Ti spacco la faccia Se riesci a venire Nella mia isola Di su Gimiletto E ad ammazzarmi Sì altrimenti no eh Cara mia Cioè chiariamoci Non so come si è armata te Posso di aver preso tutti Li ho presi tutti Io sono armata schifo Li prendo tutti Te l'ho già detto Ma non servono a nulla Non perdere neanche tempo A venire qua Steph Perché ho rubato tutto Va bene Ok Ok Bravo Ok Cioè cavolo Ma per una volta Che mi vanno anche bene le cose Mi sbagli tu Steph Io non ci credo Lo fa apposta Secondo me Non l'ho fatta apposta Fa il finto tonto Tu puoi vincersela Capite Sì sì Certo 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 Va bene così fare Ok torniamo indietro Ok Mi sembrava preparata troppo bene Vero Era una figata Cioè Comunque quanto meno l'idea Secondo me Rende queste bad works bellissime Qua bisogna essere tutti d'accordo Poi l'esecuzione Non è delle migliori Mi rimasta anche un ender pearl Perché ho fatto duemila viaggi Nella speranza Di poter avere dei diamanti Steph Però aspetta 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 Sto pensando Sto pensando Se mi faccio una crafting table No non puoi Non li posso trasformare No no Mi sa che quello è solo in game mode Puoi schiattare Davvero non li posso trasformare Vabbè Vabbè Mi dispiace Sto bruciando Ogni mia idea Qui viene distrutta Dall'incompetenza di Steph Mi sembra chiaro Ok Altri utensili In diamante Ok Sarebbe valuto Cioè valeva tanto come roba Però purtroppo Non ci serve a nulla Non ci serve a nulla in questo momento No vai via Una torta Bene bene Questa la veniamo a fare King Bob Ma chi è King Bob Casca di sotto Chi ti vuole Un sacco di esperienza Che non mi raccoglie Un bug Non lo so Va bene Allora questo mi è utile Un po' di fortuna E beh la pala Io ucciderò Steph Questo mi è utile Un inventario pieno Allora questa non mi serve più La stella non credo mi potrà servire in nessun modo possibile 23 semini neanche Che cavolo di effetto è? Ma perché mi si è baggato l'effetto dell'exp? No raga No 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 Io mi butto Buttati Steph Buttati Ciao Cioè che cos'era? Doveva darmela all'esperienza Non girarmi intorno Uh bello bello Sto trovando un sacco di cose bellissime Steph Eh ho capito Un sacco di cose bellissime Ma anche Steph Proprio guarda Proprio Acqua Che possono essere butti Fortuna sfacciata Fortuna sfacciata Io sono quasi equipaggiata Ho trovato un botto di pesce Ironicamente No raga è tornata all'exp E assatanata questa cosa Non è possibile Ho trovato un botto di pesce anche io Aspetta però non li posso prendere Allora Un po' di cose Anche io sto buttando un po' Tipo buttiamo qua Fere Cosa è successo? Ho aperto un lucky block Ed è crashato tutto È colpa di Steph Io non ho parole È colpa mia scusami È sempre colpa tua Ripara ti prego Ma perché ho tutta questa sfiga oggi? Ma non è possibile Non è possibile Uffa Allora continuiamo a buttare cose che non mi servono Tipo I secchielli possono essere utili secondo me Anche gli iron Magari questa carne Questi stivali che sono scarsi Gli alberelli perché non ripianterò mai nulla Ti prego Ma va bene Che è successo? Quella è la Steph che era quel rumore? Non l'ha di bello Ok Consolini che faccio? Consolini Ah ho visto ora che ti sta succedendo Devo proteggere la legna Sì ho visto ora Mi dispiace Steph Non c'è andata Mi sono pietrificato dalla paura Ci mancava solo che mi bruciava il letto da solo Ok Ma stava saltando il piede del dovuto Opla Utensili in legno Beh beh Questi mi servivano eh Grazie Questa volta l'expo me l'ha data Per mia fortuna Bravo Ok Ambulanza buongiorno Non è capitato nulla Cadi Eh voglio Voglio buttare questo Cioè non ho mai trovato neanche blocchi per andare da Fere Solo mob che mi vogliono ammazzare trovo Freddi Freddi Sven è finito male No 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 Datevene via Mi ha steso Freddi Mi hanno buttato giù Mi ha steso Freddi A me sono apparsi tantissimi silverfish che purtroppo mi hanno Io sono uno dei Freddi È molto forte Freddi però No questi sono 40 Eh Freddi E non so come fare quando tornerò Ok Muori 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 Esprimi un desiderio Voglio battere Fere Muori 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 Ok sono finiti Delle mele No sono finiti C'è qualcosa che mi picchia Un altro Basta Questi silverfish Ok Ma ho dei blocchi per salire Non ho neanche blocchi per salire Continua a morire Utiliziamo Mi hai passato la tua sfortuna in qualche modo Una cesta Per fare il partur Via 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 scheletrone gigante Però io adesso mi sono stupata E penso che farò un attacco a Steph Allora mi preparo Mi preparo Mi butto tutto dentro le mie ceste Ok questo E mi lascio solo quello che mi può essere utile Tipo buttiamo tutto qui dentro Allora cosa mi può essere utile contro Steph Nulla La carne Il piccone Sì questa la devo utilizzare Nulla Le pozioni da tirarti addosso Steph È quella di forza È quella di forza che io berrò Cibo La lava può essere utile Lava Bella Sì Ho anche due secchielli Che mi li prendo entrambi Purtroppo non ho una spada buona Perché ho solo una spada in legno Però se corro Ti distruggo il letto e basta È molto divertente Allora 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 Organizziamoci anche noi Per difenderci dall'assalto di fere Ok Tanto sapete cosa voglio fare nel caso Perché sei molto lontano e mi servirebbero tanti blocchi Queste neanche ci serviranno Secondo me questa assolutamente sì Ok Che noia però E poi utilizziamo anche questo Perché noi adesso andiamo qua La pala che ho messo lì Ricordati la regola Vince chi ammazza l'altro soltanto dopo che rompe il letto No ti rompo il letto e sei morto Steph No Devi anche ammazzarmi Guarda non ti do neanche ascolto Perché hai fatto Ferre è la regola delle bedwars No non mi interessano le tue regole Mi devi uccidere Te lo dico No non ti uccido Spacca quello che vuoi ma mi devi ammazzare Distruggo il tuo letto e non ti ammazzo Non mi frega niente Ferre mi devi ammazzare No non ti ammazzo Vado a romperti il tuo letto Non puoi Sì Non puoi Tu vuoi vedere Perché sei scarso e fai schifo Hai organizzato tutto male Quello è vero però Sempre ti ammazzo È un'unica cosa che fa Steph Non è vero Ok Ok Guarda qua Che bella legna Questa è la tattica Steph Consolini Questa è la tattica Steph Ma stai anche coprendo il letto Cosa? Stai anche coprendo il letto No ma chi se ne frega del letto Ok Buttiamo 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 Bravo Raccogli pure dopo che butti Perfetto Continuiamo a prendere legna Quanti blocchi ho? Trenta blocchi Non ti vanno Mi servirebbero altre enderpearl È quello il fatto Perché ne hai una? Sì Le ho sprecate Nella speranza che sarebbero state utili Andare in quelle isole Steph Quindi ho fatto tanti giri Per equipaggiarmi E tutto E invece ne è servita una ceppa Grazie a Steph Quindi sai com'è? Beh Sai com'è? Se vuoi ti posso consolare No Non me ne frega niente Guarda la mia base Ha iniziato a bruciare tutto Ti bruciare anche il letto Molto probabilmente No no Il letto non brucia Il letto non brucia Ce lo dici tu Ce lo dici tu È tutto a posto Ferro è tutto a posto Qua ci stiamo tutti divertendo Veloce Steph Tutti tranne me All'assalto La distruggiamo La distruggiamo Consolini La distruggiamo Non ce la può fare Non ce la può fare Che puoi fare Steph? Batterti Come? Con le mie armi Piangendo? Eh sto lasciando tutto il letto al momento Ma se sei lontanissimo Eh tu pensi Pere Questa è la pioggia Della battaglia finale Questa è la pioggia La senti l'acqua? Hai paura di scivolare? No per niente Ok Eh son vicino eh Molto più di te Non mi interessa Mi sto distruggendo la mano Dai Steph Dai che lo andiamo prima Nel suo letto Corri Corri Non importa Tanto poi mi devi uccidere Lo so Quanto manca quest'isola? Ok sono arrivata Ok Ok Dove è l'isola di Steph? È lontana Se faccio un bel tiro Ce la faccio Ah cavolo è vero Ho l'ultima È vero Mi l'ho dimenticato No L'ho missata di un blocco Ma ti sembra? Ma quindi questo vuol dire che Che torno a casa mia Ti posso uccidere Vai via Steph Dai Vai via Per favore Vai via Sei abbastanza ridicolo Oh mio dio Sono velocissimo Eri abbastanza ridicolo Dai Smettila Steph Pere Rompere la No dai Fere Non romperla Fere Non è quella che mi doveva battere? Sì Allora perché stai diseggendo il mio ponte? Perché non devi venire qua? Perché hai paura di essere assaltata? Non ho paura di essere assaltata Semplicemente mi difendo Ed è giusto difendersi Sai che faccio anche? Il discorso è che La mia possibilità migliore di vincere L'ho già giocata Che stai a fa? Che cosa? Perché hai ammazzato una povera pecorella? Perché era in mezzo Poi ritrovi di farmi cascare Ok Perché c'è stato recinto in mezzo? Leva la pioggia Steph Mi sta Non posso Dando fastidio il rumore Ti sta rompendo il letto Non mi interessa se lo rompi Tanto non succede nulla Rotto Mi interessa L'ho rotto? L'ho rotto? Mi interessa Adesso devo andare da fare Che sta facendo una strada Quindi basta buttarla giù Non ci arrivo qui Combatteremo qua Vabbè vendo tutti in pozioni Vai Aghia mi fa malissimo Come hai fatto? Praticamente avevo Hai la spada migliore No Ho una spada di legno Ma avevo la pozione di forza Anche io Ma quella del 200% bellissima? Credo di sì Eh non lo so Che le so Però io avevo mangiato anche una mela d'oro Ah ecco Per Pozione di debolezza Tanto ho vinto io Perché hai sbagliato tutto Cioè io ero in vantaggio E sarei stato in vantaggio Se tu Avessi fatto le cose bene Invece mi hai fatto perdere apposta Quindi ho vinto io Accetto le tue critiche Sì e non ci giocherò mai più a sta roba È stata una battaglia divertente Rassegnati Steph Rassegnati Non ci giocherò mai Ci siamo divertiti Per Ti do anche fuoco Così impari E ci fermiamo così Con questa fantastica battaglia Ovviamente Consolini Ce ne saranno altre Magari le faccio preparare L'assistente segreto Così non c'è qualcosa Che non funziona E Fere si divertirà sempre di più Guardate come sta sorridendo Oh che bel sorriso Che ci fa Fere Oh che carina Ciao ciao Consolini